Giornate frenetiche in vista dell'apertura dell'aeroporto di Comiso. La prossima settimana si apre con tutta una serie di appuntamenti propedeutici allo start-up. Lunedì è fissata una riunione all'Enac per l'assegnazione degli spazi all'interno della struttura aeroportuale. La stessa giornata sono previste anche prove di volo al Vincenzo Magliocco. Martedì c'è il dia della Soaco e riunione romana. Si va verso il decollo dello Scalo Comisano che per il primo cittadino comisano potrebbe benissimo arrivare nel mese di maggio prossimo. Andiamo avanti senza sosta in questa vicenda che per tutti è fondamentale. L'aeroporto è una realtà, era nulla e adesso è pronto a funzionare. Riunioni una dietro l'altra. Lunedì all'Enac per l'assegnazione degli spazi ai vari enti di Stato. Martedì consiglio di amministrazione per definire i bandi e per definire anche i rapporti con le compagnie aeree. Giorno 31 riunione all'Enac per definire anche lì altre vicende relative alla certificazione. Diciamo che noi siamo sicuri che entro il giorno 5 aprile al massimo saremo pronti con la torre di controllo ad operare. E che la cosa fondamentale è quella per cui mi sono impegnato e che ho realizzato. Per quanto riguarda il resto è chiaro che dipende molto dalle compagnie aeree. Alcune non sono pronte a partire subito con i voli di linea. Hanno proposto dei charter che per noi sarebbe già importante. Turisti a comiso, turisti in provincia, questa è la prima cosa importante. Altre ci dicono invece che in ogni caso hanno bisogno di qualche altro mese per organizzarsi. Io credo che al massimo per il mese di maggio noi saremo operativi, con pochi voli all'inizio, così come avevamo promesso, ma non dovrebbero esserci ulteriori novità. E poi da settembre in poi, ma lo sapremo già ora, potremo staccare i biglietti per le varie destinazioni. L'aeroporto ormai è una realtà. L'aeroporto ormai è una realtà.